Tra i vantaggi delle malte e degli intonaci realizzati utilizzando risorse assolutamente naturali della linea pura calce, oltre all'aspetto di ecocompatibilità, possiamo onoverarne la consistenza plastica, l'elevata porosità e traspirabilità e il basso modulo di elasticità. Caratteristiche che rendono questi prodotti in grado di attenuare il rischio di microfessurazione rispetto ai prodotti cementizi per loro natura più rigidi. A tutto ciò consegue una buona lavorabilità e una facilità nell'applicazione. Tra i prodotti del sistema bioarchitettura di Fassa Bortolo, MB60 è una malta secca premiscelata bianca a base di calce naturale, legante idraulico, sabbie classificate e materiale idrofugo. Caratterizzata da una colorazione chiara e specifica per muratura e faccia a vista, per interni ed esterni dove si richiede l'assenza di cemento Portland grigio. MB60 può essere utilizzata anche per interventi di consolidamento scuci-cucci, per ripristinare porzioni gravemente deteriorate e per riparare murature congiunti di allettamento degradati, con perdita delle funzioni elegante della malta. Vi è anche una versione colorata di MB60, disponibile in sette colorazioni, da utilizzare a mano per ambienti interni ed esterni e dove si richiede una colorazione particolare. Le differenze di tonalità e la non uniformità cromatica sono una caratteristica peculiare del prodotto dovuta alla naturalità delle sostanze utilizzate e dalla condizione di asciugamento dello stesso. MB60 è marcata M10 secondo la norma EN 998-2 ed ha inoltre ottenuto il certificato di conformità ANAB-ICEA.